grazie a tutti coloro che ci stanno seguendo ovviamente su zoom e su facebook questa è la lezione inaugurale aperta a tutti di un corso invece avrà poi una lezione conclusiva cioè il 17 di giugno una chiacchierata tra me e Gianni Canova sul plenario storia del cinema e tecnologia lettore dell'università URM e anche molto notissimo credo al pubblico come un critico cinematografico e autentico a conoscitore del mondo del grande schermo ma anche studioso delle distopie appassionato dei fenomeni utopici e distopici di queste particolari narrazioni che tanta forza hanno assunto nel nostro immaginario anche nel nostro immaginario cinematografico anche nella settima arte ovviamente quindi questa sarà la lezione conclusiva immaginario e distopia realizzata da Orwell al digitale il 17 giugno nel mentre questo corso si snoderà attraverso una serie di lezioni di cui si faranno carico Nicola Iannello che è signor fellow dell'istituto Bruno Leoni giornalista Giovanni Giorgini che è professore ordinario di storia delle dottrine politiche a Bologna Marco Bassani che è professore ordinario di storia delle dottrine politiche all'università di Milano Carlo Lottieri che è di casa all'istituto Bruno Leoni come direttore del dipartimento teoria politica e anche professore associato di filosofia del diritto all'università di Verona Diana Termes che ha insegnato a lungo storie delle dottrine politiche all'università della Calabria che adesso insegna storia del pensiero politico europeo a Roma 3 e Giovanni Guzzetta che è ordinario di istituzioni di diritto pubblico all'università di Roma Tor Vergata quindi competenze storie ambiti disciplinari diversi per mettere a fuoco un autore assai affascinante eccentrico sicuramente non un autore che l'istituto Bruno Leoni possa pretendere sia stato un liberal liberista non è sicuramente quello il caso ma un autore importantissimo per capire il potere sotto tanti aspetti e anche forse per capire come molto spesso i sogni politici si trasformano negli incubi peggiori. Questo autore è ovviamente George Orwell del quale quest'anno a 70 anni dalla morte sono scaduti tra virgolette i diritti d'autore e pertanto c'è in libreria un'autentica piacevole grandinata di iniziative editoriali tra cui questa bella edizione della Fattoria degli Animali di Marsilio che sarà inviata a tutti coloro che decidessero di seguirci per tutto questo percorso e di partecipare a tutte le lezioni del medesimo corso. Cominciamo nel migliore dei modi questa sera con una lezione inaugurale di Riccardo D'Alferro di Rick Duferre il quale come strepitoso divulgatore di filosofia e di scienze sociali in realtà non ha bisogno di presentazione. Tutti coloro che ci seguono questa sera si sono imbattuti in qualche suo splendido seminario online, in qualche monografica di recente, ha avuto persino il coraggio intellettuale e la pazienza di affrontarne una su Egel, insomma un autore più lontano da questo genere di mezzo apparentemente non c'è però ovviamente un autore importantissimo che ha avuto un rilievo straordinario nella storia di questa parte di mondo. Riccardo è come già detto uno straordinario divulgatore, il suo Daily Cogito è uno dei podcast di maggior successo nel nostro paese ed è sempre una vetrina di idee originali, di pensieri controcorrente che aiutano a mettere a fuoco le questioni dell'oggi come anche le tante sue diverse iniziative. Persino ha cominciato a dedicarsi a un tema sempre triste che è la lettura dei giornali di questi tempi con il suo rassegnato stampa che è, devo dire, un altro momento nel quale è possibile fermarsi un po' a riflettere su quello che ci sta accadendo attorno. Quindi, diciamo così, siamo circondati da voci che non hanno grande simpatia diciamo la verità, per la libertà di risentire e per la libertà to cure in questo periodo, ma per fortuna invece ci sono anche voci che tengono vive questi valori e li praticano quotidianamente come Riccardo. Il titolo della sua lezione è Riscrivere il passato e riscrivere il presente, la narratocrazia e Orwell e io lo ringrazio molto per essere qui con noi e gli cedo il microfono e la parola. Intanto grazie mille Alberto per questa presentazione roboante, che è quasi una riscrittura anch'essa quindi insomma noi siamo sempre qua a riscrivere noi stessi, però veramente grazie e grazie anche per l'invito perché insomma riuscire a parlare di fronte a delle persone interessate e curiose di questo autore è per me sempre una gioia. Io ho un certo passato con Orwell perché portai avanti anche uno spettacolo teatrale anni fa, tratto proprio da 1984, una cosa molto sperimentale che ebbe una certa risonanza e ogni volta in cui torno sulle pagine di Orwell trovo sempre proprio quel dissenso di cui parlavi quella necessità di usare il pensiero contro se stesso, quindi di usare le idee contro le convinzioni Quindi è un autore anche di formazione sotto il questo. Assolutamente, assolutamente sì, è un autore di grande formazione Ti interrompo un secondo solo perché mi sono dimenticato di una cosa molto importante l'ho ripetuta 14 volte prima che cominciassimo la diretta e poi me ne sono dimenticato nel momento in cui è partito il tasto rec Nei giorni scorsi abbiamo avuto online, grazie online, su Instagram in realtà grazie a dei nostri cari amici, a due profili veramente preziosi soprattutto per chi è interessato ed è un sotto insieme del quale io penso di non essere proprio l'unico rappresentante di gatti e di liberismo allo stesso tempo tra le due cose c'è un link storico importantissimo Vilfredo Pareto disse che i gatti sono molto meglio degli uomini e scriveva anche degli articoli parlando con i suoi gatti per cui c'è una tradizione nobile che vogliamo vantare Questa sera ma soprattutto su due profili molto divertenti cioè i gattini liberisti e Milton Spritzman ci hanno aiutato a animare un concorso di memes per cercare di comunicare queste idee anche in un modo più immediato, più visuale qualcosa che tu Riccardo sai essere molto importante in questo momento Questo concorso di memes si conclude oggi e Veronica Cancellieri alla quale io cedo il compito piacevolissimo di dirigere le danze questa sera annuncerà il vincitore del concorso alla fine della tua lezione quindi in conclusione di questo appuntamento scusami se mi è venuto in mente solo adesso ma è il bello della diretta come si dice in questi casi e ti pregherei mi permetto di risolecitarvi di nuovo su questo fatto che Orwell è stato un autore di formazione per te perché penso che Orwell è uno di quegli autori che oggi noi rischiamo molto di banalizzare perché se lo fanno leggere da giovani perché diventa una faccenda di fattorie maiali e in qualche modo insomma questa sua grande fortuna data dalla straordinaria leggibilità diventa forse anche un limite però non voglio ovviamente condizionare nulla della tua lezione che come già detto prima si intitola riscrivere il passato e riscrivere il presente la narratocrazia è Orwell Riccardo D'Alferro questa sera graditissimo ospite dell'Istituto Brumaglio ecco qua perfetto allora no come dicevo sì quel dissenso è una parte fondamentale della lettura di Orwell per me lo è stato è stato uno dei classici cattivi maestri ma non cattivo nel senso che abbia avuto cattive intenzioni nel senso che mi ha fatto lottare con me stesso la sua scrittura è stato un momento in cui ho dovuto rivedere profondamente alcune delle mie convinzioni e questo perché succede? perché in realtà la sua stessa è un'opera che nasce da un conflitto quello che molto spesso perdiamo per strada soprattutto in un'opera blasonata e semplificata troppo spesso come 1984 su cui cercherò di puntare l'attenzione questa sera è l'atto di scrittura che emerge dalla disillusione Orwell scrive 1984 perché è ferito è arrabbiato e scrive 1984 nel tentativo di fare ordine a quella rabbia non ci riesce anzi scrivere 1984 gli fomenta ancora di più quella rabbia infatti lui dirà che 1984 nasce da una ferita di grande ispirazione e quella ferita è importante da vedere perché anche nell'analisi proprio stilistica del libro tu ti accorgi che il libro è spaccato in due c'è una prima parte molto controllata molto narrativa, molto razionale molto quasi programmatica cioè si sente che Orwell voleva andare a parare là e a un certo punto il testo prende una vita propria prende uno stile quasi una violenza una crudezza che all'inizio non era nell'intenzione di Orwell quindi partire dal fatto che i libri che ci creano spaccature sono i libri che nascono da spaccature e quindi 1984 e questa è la cosa molto interessante è un'opera narrativa che mostra i limiti della narrazione in un'epoca in cui lo storytelling questa parola terribile, odiosa che dovremmo toglierci di dosso e non perché io sia anglofobo ma perché ha un concetto dietro che cercheremo di sviscerare questa serie insieme in un'epoca in cui lo storytelling domina su tutto e tutti questo è un libro fondamentale per due motivi in primo luogo perché è una storia che in sé denuncia il meccanismo della propaganda che più che propaganda è la propagazione del linguaggio fine a se stesso che in realtà è una definizione di propaganda e in secondo luogo perché appunto in questo progetto di Orwell si vede chiaramente l'emotività che prende il sopravvento sul progetto Orwell voleva dire delle cose e il libro alla fine è andato in direzione quasi contraria infatti noi lo sappiamo bene leggendo quello che Orwell scrive di 1984 sappiamo bene che il finale non era minimamente desiderato da Orwell il finale si è sviluppato perché la storia ha tradito se stessa e quindi ha mostrato il limite del potere del narratore sulla narrazione è un libro prezioso che racconta che cosa? beh 1984 è un libro un po' come tutta l'opera di Orwell che racconta il trionfo della realtà sulla narrazione e il prezzo carissimo che viene pagato per quel trionfo e quindi è un libro che ci porta attraverso il meccanismo della scrittura al superamento dell'idea che tutto quanto sia scrittura attraverso la narrazione all'idea che la narrazione non basta è insufficiente perché perché in fin dei conti l'esperienza non programmata della vita l'esperienza dell'imprevisto l'esperienza di ciò che accade è il vero anatema della narratocrazia e di questo anatema vorrei parlarvi questa sera allora vorrei partire con una lettura ci saranno alcune letture tratte proprio da 1984 e quindi vorrei partire con questa che ritengo una delle più belle del libro al solito lampeggiò sullo schermo la faccia di Emmanuel Goldstein il nemico del popolo dal pubblico si levarono voci di protesta la piccoletta biondastra squittì di paura e di disgusto Goldstein era rinnegato il decaduto che una volta molto tempo prima nessuno ricordava quanto era stato una delle guide del partito quasi ai livelli del grande fratello e poi si era lasciato coinvolgere in attività controrivoluzionarie era stato condannato a morte ed era misteriosamente fuggito e scomparso le proiezioni dei due minuti dell'odio variavano da un giorno all'altro ma non ce n'era una in cui Goldstein non fosse il protagonista era il traditore per eccellenza il primo ad aver insozzato la purezza del partito tutti i crimini successivi contro il partito tutti gli inganni, sabotaggi, le eresie, le devianze erano spuntati dritti dalla sua lezione era ancora vivo da qualche parte e progettava complotti forse di là del mare protetto dai suoi committenti stranieri forse nascosto così si mormorava ogni tanto nella stessa Oceania Winston era senza fiato non riusciva mai a vedere la faccia di Goldstein senza provare un doloroso misto di emozioni era una faccia magra da ebreo con una vaporosa ureola di capelli bianchi e il pizzetto una faccia astuta eppure per così dire costitutivamente spreggevole con una specie di stupidità senile nel naso lungo e affilato su cui pencolava un paio di occhiali assomigliava al muso di una pecora anche la voce aveva qualcosa di ovino Goldstein stava pronunciando il solito attacco velenoso contro le dottrine del partito un attacco così esagerato e perverso da apparire tale anche a un bambino e tuttavia abbastanza plausibile da farti temere che altri meno accorti di te si sarebbero fatti ingannare stava insultando il grande fratello denunciava la dittatura del partito chiedeva di concludere immediatamente la pace con l'eurasia difendeva la libertà di parola la libertà di stampa la libertà di associazione la libertà di pensiero stava gridando istericamente che la rivoluzione era stata tradita e tutto questo in una rapida successione di polisillabi che parodiava allo stile abituale degli oratori del partito e conteneva perfino parole della nova lingua più parole in nova lingua in effetti di quante ne usasse normalmente nella vita reale un membro del partito e intanto perché non ci fossero dubbi sulla realtà che il suo specioso sproloquio copriva dietro di lui sul teleschermo marciavano le infinite colonne dell'esercito eurasiano file su file di uomini vigorosi dall'inespressiva faccia asiatica che si accalcavano sulla superficie dello schermo per poi svanire sostituiti da altri uomini assolutamente simili alla belante voce di Goldstein faceva da sfondo il tonfo sordo e ritmico degli stivali militari e questo è un pezzo straordinario peraltro prima di introdurre l'analisi di questo pezzo e di come andremo avanti devo dirlo è stato difficile trovare un modo per introdurre questo autore anche senza sovrappormi ai temi che verranno trattati in questo corso che mi sembrano veramente spettacolari quindi io ho cercato di ho cercato di individuare un sentiero che mi sta molto a cuore e che trovo veramente molto presente in Orwell ed è proprio il punto sul linguaggio sulla narratocrazia questa parola che un po' mi sono inventato non so se qualcuno la utilizzi già ma veramente il governo del mondo da parte del linguaggio ora il linguaggio e questo quando analizzi uno scrittore diventa ancora più forte è un coltello a due lame molto affilate perché il linguaggio da un lato ci permette di rappresentare il mondo che cos'è la rappresentazione? beh in filosofia rappresentare significa mettere al posto di per noi le parole sono simboli simboli che vanno a contenere quella che è l'esperienza le evidenze la realtà sensoriale e noi cerchiamo di usare il linguaggio per mettere il linguaggio al posto di noi in effetti abbiamo contatto solo con il linguaggio quando siamo in relazione con gli altri e siamo in contatto con simboli perché siamo creature simboliche e quindi da un lato noi non possiamo fare a meno del linguaggio che è la nostra grande forza e debolezza dall'altro però c'è un altro aspetto del linguaggio che sfruttando questo primato della parola del simbolo rischia spesso di non mettersi al posto o meglio rappresentare fenomeno mettersi davanti all'esperienza rischia di sostituire l'esperienza ingannandoci con la sua dente parola la verità e questo è un elemento fortissimo nell'ambito della propaganda il linguaggio o meglio non il linguaggio perché il linguaggio non ha una sua volontà ovviamente anche se mi piacerebbe credere agli dèi del linguaggio l'essere umano spesso quello che vuole giocare un potere sugli altri riesce ad essere sua dente persuasivo parlando della verità e riesce a convincere gli altri che il linguaggio sia l'unica cosa che importa e in questo modo sostituire l'esperienza diretta con il linguaggio con il racconto e la rappresentazione è tutto quello che ci rimane questo è il cuore della propaganda convincere tante persone a non compiere l'esperienza perché c'è già la parola ovviamente questa non è la funzione del linguaggio come vedremo il linguaggio ha la funzione di migliorare l'approccio all'esperienza ma non dovrebbe mai sostituire la realtà il mondo e appunto l'esperienza e nel corso degli ultimi due secoli si sono delineate due scuole di pensiero ovviamente sappiamo bene queste sono cose complicate quindi prendete questa suddivisione cum granosalis è una necessaria semplificazione però due scuole di pensiero che hanno cercato di raccontare il linguaggio in modi diversi e fra loro antagonisti da un lato infatti c'è quello che viene chiamato il corrispondentismo e dall'altro invece una corrente filosofica che ha avuto una qual certa fortuna anzi che ha trionfato nel secondo novecento che è il costruttivismo ora che cos'è il corrispondentismo? il corrispondentismo ovviamente arriva dalla parola corrispondenza e la parola designa il tentativo di far corrispondere il meglio possibile il mio linguaggio alla realtà che voglio rappresentare fondamentalmente immaginando il linguaggio come una mappa cerca di porsi il problema di come far aderire al meglio quella mappa alla realtà cioè il linguaggio esiste come ancella della realtà il linguaggio si adatta alla realtà il linguaggio nasce dalla realtà ovvero il linguaggio è quella quel comportamento e alcuni potrebbero addirittura dire quella facoltà che la natura ci ha permesso di far sviluppare attraverso l'evoluzione per costruire mappe il più possibili aderenti alla realtà in questo caso qual è la conclusione? è che se la mia mappa come un esploratore di una montagna sconosciuta se la mia mappa corrisponde in modo abbastanza fedele alla realtà allora riuscirò a trovare il sentiero di casa se invece la mia mappa è fantasiosamente non corrispondente alla realtà laddove io penso che ci sia un sentiero troverò un burrone e che che ne dica la mappa finirò per ammazzarmi e quindi il corrispondentismo cerca di mirare a questo non potendo avere un contatto diretto univoco con la realtà avere una mappa che attraverso una continua prova di forza fra linguaggio e realtà mi permette di capire quali sono i concetti le parole, i simboli, le rappresentazioni più proficue questo tipo di pensiero ovviamente non nasce nella filosofia moderna è molto molto antico però nella modernità sicuramente trova uno dei suoi iniziatori in Kant Immanuel Kant con la sua rivoluzione filosofica a un certo punto dice una cosa centrale che ha cambiato il modo di immaginare il mondo e di immaginare il nostro rapporto con il mondo Kant dice finora i filosofi si sono convinti che la filosofia sia uno strumento per togliere il velo di maia togliere di mezzo tutte le illusioni e vedere la vera verità i teologi, le scuole medievali e tutta la scolastica cercava di usare la filosofia per togliere di mezzo le illusioni Kant dice attenzione non è così perché ci piaccia o meno noi siamo fatti di illusioni solo che ci sono illusioni proficue e illusioni invece assolutamente fuorbianti e quindi la filosofia è quel pensiero che ti permette di capire quali sono le illusioni necessarie alla sopravvivenza il linguaggio è una di queste il linguaggio appunto è simbolo, è invenzione e quindi è illusorio non è una realtà concreta come lo può essere appunto cadere in un burrone mentre per esempio, non so, ci sono le superstizioni e Kant parla dell'anima, dell'immortalità, di Dio dice queste sono superstizioni che non è detto che non ci siano ma semplicemente sono illusioni che rischiano di farmi non comprendere il mondo e quindi questa distinzione in questa distinzione tutto quanto si basa sulla dicotomia fra il fenomeno cioè il modo con cui la realtà si presenta a me attraverso le rappresentazioni e il noumeno cioè quella parte di mondo che sta oltre la mia capacità di farmi rappresentazioni quindi anche oltre il linguaggio, i concetti, i simboli in questa distinzione Kant dice fondamentalmente la filosofia e il linguaggio devono aderire a una realtà che c'è che è ineluttabile non posso, anche se io mi racconto che la realtà non esiste comunque ne pagherò le conseguenze e questo tipo di pensiero viene poi completato nel prosieguo del pensiero filosofico ovviamente da Nietzsche perché ovviamente in questo pensiero il quale è il grande rischio quello in cui vedremo, siamo caduti nel novecento quello di cadere in un relativismo sfrenato in cui non solo ci convinciamo che abbiamo soltanto un contatto con le rappresentazioni ma in cui ci convinciamo che quindi porci il problema della verità della falsità della realtà dell'illusione sia completamente superfluo e allora questo pensiero va completato con quello che è il prospettivismo di Nietzsche perché Nietzsche completando questa grande rivoluzione kantiana arriverà poi a dire non è che visto che tutto è una nostra immagine, una maschera allora non c'è più il discorso sulla verità no, la verità esiste solo che la verità è l'insieme di tutte le prospettive ma quelle prospettive esattamente in modo darwiniano si selezionano proprio per quanto riescono ad aderire alla realtà al mondo e allora ecco la necessità del prospettivismo e tutto questo mi porta a concludere quello che è il punto del corrispondentismo qual è il punto veramente fondamentale? è che la mia sopravvivenza deriva e dipende dalla continua messa alla prova del mio linguaggio, delle mie rappresentazioni con la realtà non potendo mai vedere che cos'è la realtà devo usare le parole per verificare se la mia mappa mi permette di trarre vantaggi aumentare il mio benessere sopravvivere trarre felicità, serenità quindi interpretare questi miei eventi come un modo per dire ok, la mia mappa in qualche modo sembra aderire abbastanza bene dall'altro lato se sviluppate invece un pensiero molto diverso che è quello del costruttivismo ora, il costruttivismo si è convinto di una cosa molto diversa arrendendosi all'idea che noi non potremo mai entrare in contatto con nulla che abbia a che fare con la realtà allora si è convinto che in realtà la mappa è il territorio e tutto ciò che noi abbiamo è solo la mappa e che l'aderenza con il territorio è una questione che neanche dovremmo porci perché tanto noi il territorio non lo vedremo mai questo si è delineato in tanti tipi di formule il medium è il messaggio è uno dei grandi dei grandi motti del costruttivismo ovviamente Marshall McLuhan autore straordinario e però parte da questa idea raga io con la realtà non so non so che rapporto ho so che rapporto ho con la mappa con il linguaggio con le parole con i concetti quindi su quello lavoro insomma il costruttivista si convince che il linguaggio è l'unica realtà con cui abbiamo un contatto perciò ci sono delle conseguenze per esempio la semiottica cioè quella disciplina filosofica che studia il segno il segno proprio il segno non soltanto il segno con la penna ma il segno come simbolo il segno come rito il segno come parola il fonema il suono la musica tutto è segno in realtà c'è Charles Sander Peirce che fa questa nomenclatura infinita dei segni segni in realtà diventa tutto quanto diventa un segno la semiottica acquisisce il livello di un'ontologia e quindi c'è il dominio del segno sulla vita e tutto quello che noi possiamo studiare della nostra vita è segno in Italia voglio dire il più grande esponente ovviamente è stato Umberto Eco Umberto Eco preso a tradizione del Peirce William James e ha fatto della semiottica letteralmente un'ontologia e quindi intervenire sul linguaggio intervenire sul segno che è un ambito esperienziale su cui abbiamo un qual certo potere perché il linguaggio è prodotto dall'uomo per quanto Iami Borges non è il contrario non è il linguaggio che produce l'uomo ma è l'uomo che produce il linguaggio avendo un piccolo potere su questo linguaggio allora intervenendo posso modificare la realtà ecco questo è di nuovo semplificando 150 anni di sviluppo filosofico però tanto per farvi capire da dove arriva questo tipo di visione il linguaggio nel costruttivismo diventa l'unico dominio dell'uomo e se io modifico il linguaggio i segni i concetti le parole modifico la realtà noi oggi lo vediamo tranquillamente in tutta la diatriba che esiste nell'ambito per esempio dei pronomi personali per attribuire un certo valore disvalore a una persona alle sue scelte al suo genere alla sua appartenenza lo vediamo quando la legge cerca di modificare togliere manipolare le parole per avere un intento educativo lo vediamo quando nella Treccani vengono eliminati quei modi di dire che ci sembrano politicamente scorretti e in questo modo pensiamo di modificare la realtà mentale esperienziale delle parole questo soltanto per dirvi che il costruttivismo ha letteralmente trionfato nel novecento e ormai gente che dice che la mappa non è il territorio quando lo dice lo dice un po' come presa in giro e c'è un problema che questa che io ho appena descritto questo intervento sul linguaggio per modificare la realtà è esattamente ciò che racconta Orwell perché la propaganda fa esattamente questo e alcuni pensatori fra cui Charles Sander Peirce ma tanti altri Richard Rorty per dirne un altro si sono convinti nel tempo hanno scritto che è fondamentale comprendere questo comprendere come funziona è fondamentale adottare questo tipo di visione perché per contrastare la propaganda bisogna adottarne i mezzi e questo può essere un pensiero sicuramente interessante sicuramente come dire sicuramente viabile il problema è che poi a me viene in mente quella citazione di Sun Tzu il quale scrisse qualche mille anni fa che la guerra è vinta da chi sceglie il campo di battaglia e ovviamente adottare lo stesso campo di battaglia di coloro che vogliamo contrastare non è necessariamente una vittoria ecco allora il postmodernismo il postmodernismo questo pensiero filosofico che fa del costruttivismo il suo cuore pulsante si è caratterizzato proprio per questo rovesciamento fra realtà e linguaggio non è più il linguaggio ad essere partorito dalla realtà dall'esperienza non è più la conseguenza della realtà dell'esperienza ma è il contrario la realtà è il frutto del modo con cui la raccontiamo e dal momento che abbiamo fallito nel delineare il confine fra esperienza ed espressione allora noi ci siamo convinti che che quell'aspetto che quel primato del linguaggio fosse l'unica idea su cui pontare e allora ci sono tanti autori alcuni li ho già citati Richard Rorty il quale prendendo a piene mani questa idea Richard Rorty peraltro autore straordinario di cui consiglio la lettura è veramente grandi opere però lui si convince che la filosofia in fin dei conti dovendosi adattare a questa nuova consapevolezza deve togliere di mezzo problemi che sono o insolubili o falsi problemi cosa sono i falsi problemi? beh guarda caso sono i problemi non dirimibili attraverso il linguaggio una cosa molto simile a quella che diceva Kant il noumeno cioè il mondo che sta oltre il fenomeno magari c'è magari non c'è ma non mi pongo il problema però Kant poi ci ha scritto comunque opere per ragionare sull'immortalità dell'anima su Dio su queste idee tra perdere di tempo ma in realtà ecco mentre Kant diceva che quelle sono idee su cui possiamo perderci tempo eventualmente Rorty dice no non dobbiamo perderci tempo perché in realtà ci facciamo un danno ed ecco allora che il costruttivismo mostra subito il suo intento politico c'è un'opera di Rorty che si intitola la filosofia dopo la filosofia in cui lui dice esattamente questo è un programma per dire noi dalla filosofia dobbiamo eliminare questi problemi che è una roba abbastanza tosta da dire insomma i filosofi si occupano da sempre di cose inutili e credo dovrebbero continuare a farlo poi c'è Charles Sander Peirce appunto tutto quello su cui possiamo ragionare è il segno e nient'altro e poi si arriva ovviamente alla Francia perché non possiamo mentire noi stessi il costruttivismo trova il suo apice più straordinario nella Francia dei post costruttivisti quindi Michel Foucault per esempio che nelle sue lezioni al Collège de France l'ermeneutica del soggetto e il libro tratto da quelle lezioni fondamentalmente dice arriva a dire che il soggetto l'individuo è il prodotto dei discorsi dei segni e del linguaggio ovviamente in questo in questo rovesciamento fra esperienza linguaggio e realtà che arriva alle sue estreme conseguenze al punto che noi oggi siamo estremamente convinti culturalmente che l'individuo sia soltanto il prodotto di un contesto e che quel contesto sia eminentemente linguistico qual è la conseguenza di tutto questo di tutta questa che magari vi spaventa ma è un'introduzione a quello che poi voglio dire però spero di non avervi troppo spaventati beh la conseguenza è che il primato del virtuale sul reale produce una realtà cosmetica una realtà che è sempre artefatta una realtà cosmetica che ha una serie di aspetti fondamentali in primo luogo è una realtà che non tollera l'ingerenza dell'imprevisto e infatti l'imprevisto è ciò che contraddice la cosmesi e prima mi fa un po' ridere ma quando c'è stata l'intervento a metà strada del mio inizio di Alberto Mingardi ecco il partito quella cosa non l'avrebbe mai tollerata caro Alberto quindi pentiti in secondo luogo questa realtà cosmetica necessita della continua revisione dell'opera in corso cioè in corso d'opera bisogna continuamente rivedere come una scrittura che continua a modificarsi proprio perché nel mentre della scrittura e dello storytelling continuamente la realtà contraddice ciò che c'è scritto ma poi lo vediamo un po' meglio e infine questa realtà cosmetica spinge il cittadino ad amare la virtualità e vorrei fare un piccolo ragionamento su questo proprio accennato l'amore per la virtualità è il motivo per cui che ci piaccia o meno e a me non piace l'idea però il lockdown durante questo momento storico è un modello perfetto per comprendere le conseguenze di questo atteggiamento e proprio oggi io su Twitter ho condiviso un articolo che trovo agghiacciante su Wired in cui si raccolgono delle testimonianze di alcune persone che dicevano di essere estroverse prima del lockdown il lockdown le ha rese introverse perché in quella dimensione sono trovate così bene potendo fare un sacco di corsi virtuali di zoomate con le persone giocare al playstation avere esperienze che hanno chiuso il mondo là fuori e l'unica esperienza col mondo è linguistica qui ricordiamoci l'esperienza di internet è un'esperienza di segno eminentemente segno non fosse altro per il fatto che per essere connessi qui tutti quanti siamo in relazione con un codice voi stessi mi state vedendo ma non state vedendo me io sono un codice per voi quindi tutto si è trasformato in segno in linguaggio e questa virtualità è perfettamente rappresentata dal periodo del lockdown e quindi tanto per dire insomma che annetto poi della pandemia quello che abbiamo vissuto è letteralmente paradigmatico di tutto quello che sto cercando di raccontare ecco a me piace pensare ma non è che lo pensi io è evidente dall'opera che Orwell vede prevede tutto questo e lo vede nell'ambito del comunismo peraltro perché 1984 è una grande contestazione al modo con cui il partito comunista britannico appoggiava ancora l'unione sovietica stalinista da cui lui si distanzia e qui c'è un aspetto sapete come diceva prima Alberto è un autore distante dal pensiero liberale dall'istituto Bruno Leoni anche politicamente da quello che è il mio sentimento politico però però se leggiamo 1984 e leggiamo quest'opera con questa lente beh ci accorgiamo che ci sono delle assonanze incredibili con Ayn Rand l'oggettivismo che poi verrà trattato sicuramente in una prossima lezione proprio da Diana Termes che ha scritto anche quel bellissimo libro che consiglio veramente edito da IBL sull'oggettivismo di Ayn Rand e sul fascismo eterno citando in parte Umberto Eco fatto tutto questo enorme preambolo che ovviamente non è un preambolo ma è condizio sine qua non del prosieguo vi propongo un'ulteriore lettura per sviluppare ancora il ragionamento allora scrive sempre in 1984 Orwell che cosa accadesse nell'invisibile labirinto cui portavano i tubi pneumatici non gli era dato saperlo con precisione si parla ovviamente del povero Winston Smith che comincia a vedere alcune cose del mondo di cui è circondato ne aveva però un'idea raccolte e ordinate tutte le correzioni che si fossero considerate necessarie per un certo numero del tempo quel numero veniva ristampato la copia originale distrutta e la copia emendata messa negli archivi al posto dell'altra a questo procedimento di contiva trasformazione erano sottoposti non solo i giornali ma anche i libri i periodici gli opuscoli i manifesti i pieghevoli i film le colonne sonori i cartoni animati le fotografie ogni tipo di letteratura o documentazione i video di youtube ovviamente che avesse una qualche valenza politica o ideologica di giorno in giorno anzi di minuto in minuto il passato era costretto ad aggiornarsi in questo modo la disponibilità di prove documentarie costantemente rinnovate dimostrava corretta ogni previsione che il partito avesse fatto e non si permetteva di tenere nei registri alcuna notizia o d'opinione che fosse in disaccordo con le esigenze del momento la storia era un palinsesto da cui si raschiava la vecchia scrittura e su cui si riscriveva ogni qualvolta lo si ritenesse necessario in nessun caso si sarebbe potuto dimostrare a posteriori che si fosse apportata una qualche falsificazione la sezione più estesa del dipartimento dei registri molto più estesa di quella dove lavorava Winston era formata da persone che avevano semplicemente il compito di raccogliere tutte le copie di libri giornali e altri documenti che una volta rimpiazzati andavano distrutti un numero del tempo che per cambiamenti negli assetti politici o erronee profezie del grande fratello fosse stato riscritto dozzine di volte rimaneva in archivio portando ancora la data originaria e non esisteva più copia che potesse smentirlo anche i libri venivano ritirati e riscritti di continuo e puntualmente ripubblicati senza alcuna notifica dei cambiamenti pure le istruzioni scritte che Winston riceveva e puntualmente eliminava non appena fosse finito di servirsene non dichiaravano mai né lasciavano intendere che si fosse falsificato alcun che si indicavano solo sviste errori refusi o citazioni scorrette che l'amore ed esattezza suggerisse di emendare peraltro emendare parola bellissima utilizzata soltanto da Spinoza e Orwell e noi poi ce la siamo dimenticata allora una cosa interessante da osservare prima di una cosa che mi è venuta in mente mentre leggevo abbiamo appena sentito la società del meme del meme perché che cos'è il meme se non la riscrittura completamente sradicata da qualsiasi comprensione da qualsiasi fonte di immagini di parole di foto e via dicendo quindi in realtà Orwell preconizza il momento in cui le battaglie politiche e anche i conflitti più tragici vengono a svilupparsi attraverso i meme ed è una cosa da un certo punto di vista grottesca dall'altro molto molto paradigmatica nel nostro tempo ma questo è un pensiero così laterale che lasceremo da parte ora io prima ho parlato di realtà cosmetica cioè una realtà artefatta una realtà truccata e noi viviamo in una realtà che è sempre più cosmetica ed è cosmetica proprio per mezzo del linguaggio dello storytelling della narrazione ora la cosmesi è l'atto necessario del costruttivismo è l'arte per eccellenza la storia la vita l'amore la terra e la realtà contraddiccono sempre inevitabilmente il racconto che noi facciamo di noi stessi e questo comporta una cosa che se a dominare è il racconto che facciamo di noi stessi allora la revisione diventa la normalità quella che un tempo era invece un'eccezione perché un tempo prima del dominio del linguaggio prima della narratocrazia che ci piaccia o meno la normalità era l'esistenza di un'autorità che decideva cos'era la versione ufficiale e che utilizzava la propria credibilità politica istituzionale per mantenere quella cosa ora invece la revisione è la normalità perché perché la revisione è in mano a tutti noi un tempo i revisori erano soltanto quelli che avevano quella credibilità quel potere adesso la revisione in mano a tutti noi perché il linguaggio al tempo stesso si è avvicinato a noi questo strumento è lo strumento che ha avvicinato di più il linguaggio a noi pur allontanandocene perché ovviamente il linguaggio si è avvicinato ma abbiamo perso le redini poi di un linguaggio intenzionale ma questo è tutto un altro discorso ecco io vorrei fare un esempio per darvi l'idea dell'impatto di questo atteggiamento l'influencer di oggi l'influencer quindi la persona con esposizione mediatica che è seguito da orde e orde di persone tra cui bambini bambine via dicendo l'influencer oggi rappresenta perfettamente questa cosmesi ora Orwell ovviamente non immaginava gli influencer anche se il grande fratello che si mostra lo schermo e fa i suoi diktat e Goldstein insomma sembrano molto gli influencer di questo tempo influencer non certo delle dimensioni di Rick Dufer magari Chiara Ferragni e Fedez più che Rick Dufer però l'influencer di oggi rappresenta proprio questa cosmesi perché l'influencer è una figura che non poteva che emergere in un momento storico dove la cosmesi domina dove il linguaggio diventa l'unica realtà possibile e modificabile in effetti l'influencer è una figura la cui vita è completamente pianificata ed è molto interessante un aspetto per chiunque si interessi un po' di questo mondo assolutamente schizofrenico voi vi accorgerete che c'è una tendenza a rendere sempre più pubblica la vita sempre meno privata la vita ci sono addirittura personaggi che si filmano per 24 ore pure quando dormono e questo comporta da un lato potrebbe comportare una grande spontaneità dall'altro invece c'è una continua attenzione e pianificazione di come la propria vita viene percepita e in effetti l'influencer è colui che sviluppa una spontaneità artefatta è l'influencer che prende il cellulare e posta su Instagram un selfie che sembra così rubato in un momento di tranquillità spontaneità come se non si fosse accorto di essere catturato invece dietro a quella cosa ci sono 164 foto con mille pose mille tentativi di ricercare la spontaneità ecco non c'è nulla di più paradigmatico del costruttivismo della ricerca della spontaneità di una spontaneità che quindi è autocontraditore perché è artefatta e ovviamente anche della bontà forzata quella dell'influencer che magari non capisce nulla del mondo che lo circonda perché siamo tutti limitati non abbiamo informazioni su tutto però sentenzia ma molto molto sentito un problema di trend dicendo quello che la fetta più vasta del suo pubblico si aspetta da lui o ancora meglio in questa perversione incredibile dicendo ciò che lui pensa che la maggioranza del suo pubblico si aspetti da lui e quindi c'è questo continuo interscambio che diventa veramente problematico poi anche per la psiche delle persone coinvolte e quindi questa vita pianificata questa spontaneità artefatta questa bontà forzata tutto deve aderire a che cosa mica alla realtà ma a una narrazione e quindi tu hai un mondo e questo veramente quando tu leggi i capitoli di 1984 in cui si parla della riscrittura della storia ti trovi di fronte a qualcosa che sembra scritto veramente dieci anni fa ma che ma che cinque anni fa ma che domani allora hai un mondo che è il prodotto di una narrativa su una narrativa su una narrativa che vicendevolmente si modificano fino al punto da creare delle perversioni assurde e anche molto divertenti molto spesso se non fossero tragiche finché tutto si scrosta perché poi alla fine la realtà emerge la realtà emerge e colpisce duro e riesce a rompere tutta questa patina di cosmesi che ci mettiamo intorno e ci sono dal mio punto di vista due fenomeni psicologici e culturali che concorrono alla costruzione di questo di questo aspetto da un lato noi abbiamo l'esplosione tecnologica che di nuovo ci ha avvicinato e ha fornito a tutti noi il ruolo di revisori di noi stessi questa è una cosa terribile se ci pensate perché porta grandi opportunità ma poi diventa come qualsiasi sostanza dopante come qualsiasi sostanza allucinogena ci convinciamo e dobbiamo convincerci dell'allucinazione per poter progredire in questa disavventura della vita e quindi da un lato c'è l'esplosione tecnologica che ha portato anche a un'espansione assolutamente imprevedibile della visibilità di nuovo siamo tutti molto più visibili di ieri anche quando siamo invisibili però ci raccontiamo di essere visibili di avere degli interlocutori o addirittura un pubblico e dall'altra parte ovviamente c'è un fenomeno che è molto più profondo che è la perdita totale di certezze le certezze che hanno forgiato l'individuo moderno quelle certezze sgretolatesi davanti al concetto che è anch'esso una narrazione ovviamente però proficua della morte di Dio così come delineata da Nietzsche questa perdita di certezze unita a questa espansione tecnologica ha permesso all'essere umano di aggrapparsi allo storytelling di se stesso quindi alla narratocrazia come al tentativo di colmare quelle incertezze emerse ed ecco allora che da questo dipende l'identità e 1984 è un testo sull'identità e poi nell'ultima parte lo vedremo veramente in modo potente in questo contesto costruttivista narratocratico l'identità non si scopre più attraverso l'esperienza e quindi attraverso qualcosa che ci sorprende non c'è più il taumaze in aristotelico cioè la meraviglia quando Aristotele parlava della meraviglia mica parlava della meraviglia davanti alla cascata del Niagara o davanti a Disneyland Paris o davanti a che ne so non è la meraviglia del mondo è la meraviglia di scoprire qualcosa di sé che contraddice l'idea che avevo di me stesso ecco questo tipo di scoperta questo tipo di identità che si forgia attraverso la sorpresa la meraviglia non esiste più non c'è più non scopriamo più chi siamo ma decidiamo e determiniamo chi siamo in base all'appartenenza a cui vogliamo aderire e che cosa è l'appartenenza? è una storia è una serie di concetti di parole di linguaggi che ci fanno sentire al sicuro e quel farci sentire al sicuro ci permette di non esporci più perché? perché quando ci esponiamo usciamo da quell'appartenenza e entriamo in contatto con la realtà e la realtà è lì pronta a contraddire le storie che ci raccontiamo su noi stessi ecco Winston Smith scopre che non è vero non è vero che l'identità la decidiamo non è vero che l'identità la puoi determinare perché ti conviene far parte di quel gruppo e definirti in un certo modo non è vero che l'identità ti viene data da gruppi che si costituiscono per darti privilegi comodità quiete pace no Winston Smith scopre che l'identità ti accade l'identità si scatena quando la realtà emerge dalle storie che ci raccontiamo ed è così che Winston Smith scopre se stesso e come detto in una canzone di un altro autore decisamente lontano dallo spettro liberale per come lo intendiamo noi che è Caparezza e nel suo ultimo disco a un certo punto Caparezza dice una cosa che a me sta molto a cuore dice io non voglio trovare me stesso perché potrebbe non piacermi Winston Smith scopre di se stesso e scopre che oh non si conosce è quello il taumaze di Aristotele c'è anche se volete io vi do un consiglio spassionato da mettere come lettura accanto al libro di George Orwell ovviamente accanto a questo questo bel corso che è il mio libro di racconti horror se volete che si titola i racconti della vera nuova carne sì sono un filosofo che scrive anche roba horror perché nell'horror c'è della buona filosofia e il primo racconto di questa raccolta narra proprio questo dice quando tu ti scopri devi starci attento Winston Smith doveva starci attento perché scoprire se stesso significa iniziare un percorso che poi lo porterà a un finale decisamente difficile da accettare e qui arriviamo quindi all'ultimo punto perché io prima ho detto la realtà emerge rompe le narrazioni rompe le storie che ci raccontiamo ma cosa vuol dire questo beh vi propongo di nuovo anzi un paio di letture scrive Orwell il partito non mirava solo a impedire che uomini e donne stringessero legami potenzialmente sovversivi il suo scopo vero non dichiarato era questo privare l'atto sessuale di qualunque piacere il nemico non era tanto l'amore quanto l'erotismo dentro e fuori dal matrimonio tutti i matrimoni tra membri del partito dovevano ricevere l'approvazione di un comitato speciale e anche se questo principio non fu mai dichiarato il permesso veniva sempre negato se i due aspiranti avevano l'aria di provare attrazione fisica l'uno per l'altra al matrimonio si riconosceva l'unico fine di generare bambini che fossero al servizio del partito il rapporto sessuale andava considerato una disgustosa pratica di poco conto come la somministrazione di un clistere neppure questo era mai stato espresso a chiare lettere ma in modo indiretto era penetrato nella testa di ogni membro del partito fin da quando era bambino esistevano perfino organizzazioni come la lega giovanile antisesso che predicavano la castità totale per entrambi i sessi tutti i bambini dovevano venire al mondo per inseminazione artificiale SEMART in nuova lingua e crescere gli istituti pubblici Winston sapeva che questo non era inteso proprio in senso stretto ma era in linea con l'ideologia del partito il partito stava cercando di uccidere l'istinto sessuale o se non si poteva ucciderlo di distorcerlo e di insudiciarlo non capiva perché ma sembrava naturale che si dovesse andare così e con le donne il partito aveva ottenuto risultati particolarmente felici e qualche pagina dopo Winston fatta questa premessa di come la narratocrazia cerca di allontanarci dall'esperienza reale in questo caso sessuale che ci piaccia o meno è una delle esperienze non solo più piacevoli ma anche più reali che possiamo fare a un certo punto Winston si accorge che questa roba non funziona perché? perché incontra Giulia e parlando con Giulia e peraltro scusatemi ma è la più bella storia d'amore nella letteratura del novecento è quella fra Winston e Giulia è proprio straordinaria dice Winston ascolta più uomini hai avuto più ti amo capisci? perfettamente odio la purezza odio la bontà non voglio virtù da nessuna parte vi voglio tutti corrotti fino al midollo beh allora dovrei andarti bene mio caro sono corrotta fino al midollo ti piace farlo? non parlo di me parlo parlo della cosa adoro farlo ecco che cosa voleva sentirsi dire più di tutto non l'amore per una persona ma l'istinto animale il desiderio assoluto e indifferenziato era quello il potere che avrebbe polverizzato il partito la premette sull'erba tra le campanule cadute questa volta non fu difficile infine gli ansimi si quietarono e in una sorta di piacevole abbandono Winston e Giulia si staccarono il sole sembrava più caldo avevano sonno entrambi allungando il braccio lui recuperò la tuta e con un lembo fece una coperta per Giulia quasi immediatamente si addormentarono e dormirono per circa mezz'ora Winston si svegliò per primo si mise a sedere e osservò il volto lentigginoso di lei che ancora dormiva serenamente facendosi cuscino con il palmo della mano non si poteva dire che fosse bella con l'eccezione della bocca e vista da vicino mostrava un paio di rughe intorno agli occhi i corti capelli castani erano straordinariamente folti e soffici gli venne in mente che non sapeva ancora come facesse Giulia di cognome o dove abitasse davanti a quel corpo giovane e forte che ora giaceva indifeso nel sonno fu invaso all'improvviso dalla tenerezza e da una voglia di dare protezione ma quella dolcezza irrazionale che lo aveva preso sotto il nocciolo al canto del tordo non riemerse nocciolo scusatemi al canto del tordo non riemerse scostò la tutta e studiò il morbido biancore del fianco ai vecchi tempi pensò un uomo guardava il corpo di una ragazza e lo trovava desiderabile fine della storia ma adesso non potevi più sentire puro amore oppure attrazione fisica nessuna emozione era pura perché tutto si mischiava con la paura e con l'odio il loro abbraccio era stata una battaglia l'orgasmo una vittoria un attacco al partito un atto politico questo straordinario brano a cui vorrei soltanto aggiungere due cose uno io quando all'inizio dice odio la purezza odio la bontà non voglio virtù da nessuna parte vi voglio tutti corrotti fino al midollo mi ha ricordato tantissimo il grande Alexander Spooner con il testo i vizi non sono virtù volere il vizio perché è nel vizio che si trova la vera libertà e poi questo finale nessuna emozione era pura perché tutto si mischiava con la paura e con l'odio e io aggiungo con la propaganda con il linguaggio di cui paura e odio sono il cuore ovviamente ecco vorrei farvi ragionare su questo in conclusione poi passiamo alle domande quella che io ho chiamato narratocrazia è una fantasia da tempo di pace nel momento della crisi la realtà emerge e mostra che il dominio dello storytelling è una pura fantasia perché la realtà mentre noi ci raccontavamo delle storielle ha covato continuamente magmaticamente sotto la cosmesi della realtà non può che rimandare l'incontro con quella realtà con quel magma ma non per sempre 1984 poi è un libro sufficientemente saggio da non raccontare l'esplosione del magma perché è un libro di mezzo secolo fa quindi mi perdonerete lo spoiler però non viene raccontata la fine del partito non viene raccontata il cataclisma anzi viene raccontato il fallimento di uno di questi momenti di ribellione ma a un certo punto la realtà polverizzerà il partito come viene detto benissimo in questo brano e perché lo polverizza perché il mondo esiste al di sotto delle nostre storie e noi possiamo anche avere il potere più incredibile più coercitivo più violento lo stato più totalitario ma per quanto le storie di quello stato siano coerenti forti potenti alla fine la realtà distruggerà la cosmesi quindi qualunque storia qualunque identità ci saremo scelti in qualsiasi ambito verrà contraddetta la realtà arriverà e ci mostrerà che in realtà quella era solo una parola quella era soltanto una categoria era soltanto una gerarchia un gruppo un'appartenenza una bandiera un simbolo e la realtà ci mostrerà che quella roba lì non vale più che magari valeva per una piccola percentuale in un momento della nostra vita poi però se la vuoi proteggere campa cavallo lo storytelling è la nuova hubris è il nuovo tentativo di innalzarci al livello degli dei non siamo riusciti a diventare dei con i superpoteri non siamo riusciti ad innalzarci al livello di Dio crocefiggendo gli dei sconfiggendoli in battaglia allora cerchiamo di innalzarci al livello di dei raccontandoci che non c'è limite al potere del racconto e oggigiorno noi ci siamo invasi da questo pensiero del guru che ci dice vuoi cambiare la tua vita cambia il modo in cui la racconti e lo si sente ovunque ed è una cazzata è una cazzata non è vero ci puoi illudere per un certo momento che effettivamente raccontando la mia vita posso tirarmi fuori da un momento di miseria e può anche riuscire per alcuni piccoli aspetti della vita e della nostra esistenza ma poi alla fine è un peccato di hubris è il tentativo di trovare un'altra illimitatezza e se l'illimitatezza non è più quella dell'anima perché Dio è morto allora la mia illimitatezza è quella del racconto della mia storia e questa illimitatezza questa hubris è incarrata perfettamente dal totalitarismo novecentesco di cui Orwell parla perfettamente e che mi dispiace brutte notizie ma non è ancora così tanto passato ed ecco allora perché quella di 1984 è la più bella storia d'amore anzi la più bella storia di sesso della letteratura del novecento perché il sesso l'amore l'innamoramento così come l'odio che Winston cova nei confronti di O'Brien di Goldstein e poi del grande fratello e del partito e la paura quel capitolo incredibile sul sogno dei topi che mi ha fatto venire gli incubi ecco questi sono elementi che costringono Winston a non credere più alla storia che lui stesso aveva abbracciato per il un impiegatuccolo Winston è un tizio che per lungo tempo si è detto è meglio non disturbare il can che dorme e quindi quindi va bene così quindi lasciamo che la storia viva in autonomia ecco allora che a un certo punto accadono delle cose accade Giulia proprio piove dal cielo un avvenimento che sconquassa accade l'amore accade la vita Winston si scopre capace di idee di parole di pensieri e di atti impensabili questo è il motivo per cui mi sento così legato anche a quel concetto sartriano in cui a un certo punto Sartre dice che noi scopriamo di essere costretti alla libertà o dalla libertà ancora meglio perché libertà e amore ed è per questo che Orwell non è un liberale ma è un liberale perché libertà e amore si assomigliano in quanto ci accadono nessuno di noi decide di innamorarsi e allo stesso modo nessuno di noi decide di essere libero e noi possiamo raccontarci finché vogliamo di non essere liberi del fatto che siamo dei burattini del fatto che siamo degli automi programmati però poi alla fine dei conti scopriremo in alcuni momenti della nostra vita che siamo liberi così come ci siamo innamorati che ci è accaduta la libertà che siamo responsabili delle nostre azioni e che siamo responsabili del modo con cui scopriamo ciò che siamo e quindi libertà e amore si assomigliano perché ci accadono e non determiniamo non possiamo decidere di amare non possiamo decidere di essere liberi è un paradosso inestricabile siamo costretti ad essere liberi che però viene raccontato in modo perfetto proprio dall'opera di George Orwell ecco secondo me Orwell ed è il modo con cui volevo introdurvi a questo bellissimo corso che consiglio di seguire perché insomma coloro che lo tengono sono voci anche molto più autorevoli della mia Orwell racconta un'epica del divenire se stessi al tempo dello storytelling ed è questo a renderlo prezioso è unico noi anche nell'epoca in cui siamo preda delle narrazioni e in cui la narrazione del più forte vince sulle narrazioni dei più deboli anche in questa epoca possiamo ritagliarci un margine di azione di libertà per scoprire chi siamo senza aderire a criticamente a categorie gruppi appartenenze che in realtà non ci competono perfetto Riccardo grazie mille per questa altro che lezione è stata una cavalcata ho cercato di essere di essere appassionante perché a me Orwell ha passione ma assolutamente lo sei stato ed è stata piacevolissima allora do solamente qualche nota tecnica per partecipare con le domande allora per i nostri spettatori su Zoom allora i nostri spettatori hanno a disposizione qui su Zoom la sezione DR qualora vogliano fare una risposta scritta e trovano il comando proprio nella barra in basso di questa schermata vicino a quel comando invece ce n'è un altro che si chiama Alza la mano che vi dà facoltà di prenotarvi per un intervento a voce quindi qualora vogliate farlo schiacciatelo e vi darò io il permesso per aprirvi il microfono e appunto intervenire invece per coloro che ci seguono da Facebook gli basterà scrivere la loro domanda nei commenti e ci penserò io quindi a riportarla qui in diretta allora abbiamo già qualche commento vuoi leggere tu o faccio io? leggo io qui domande e risposte giusto? esattamente l'importante è leggerle così le facciamo sentire a tutti grazie clicco clicco anche su risposta dal vivo giusto? se vuoi ci penso io ok perfetto allora andrei in ordine allora c'è Luciano Pontiroli che dice quindi l'apprezzamento popolare per Giuseppe Conte potrebbe essere inteso come l'equivalente nostrano delle ultime parole del protagonista di 1984 la confessione dell'amore per il grande fratello ecco che questa sia una domanda anche sufficientemente sarcastica però sì allora mettiamola così se Giuseppe Conte si facesse crescere dei bei baffi forse potrebbe anche assomigliare molto al al grande fratello con un po' meno carisma forse perché una cosa possiamo dirle il grande fratello aveva un po' più carisma Eva Gigantelli invece dice l'amore per il lockdown e per il mondo chiuso è una volontà più o meno esplicita di non farsi male eliminare il dolore le delusioni e alzizzarsi in perpetuo in parte è questo ovviamente ecco lungi da me il dire o l'accusare il lockdown di avere questo obiettivo non è così non fraintendete quello che ho detto diciamo che l'assenso acritico che ancora oggi vediamo c'era un articolo per esempio sul The Atlantic qualche settimana fa in cui si diceva anche se negli Stati Uniti i dati epidemiologici sono positivi sono crollati i contagi e quasi tutti vanno in giro anche senza mascherino ormai all'aperto però c'è una parte guarda caso dei liberal quindi della sinistra progressista americana che sta in piazza a volte mascherina a dire no è troppo presto è troppo presto perché c'è questo aspetto esiste questo questo aspetto di volersi chiudere cosa volete di nuovo è un pensiero che può essere nutrito in un momento di pace abbiamo un sufficiente benessere da poter trovare nelle nostre case nei nostri salotti un luogo un locus a menus se però la nostra realtà casalinga non è esattamente così bella il lockdown diventa insopportabile quindi sì è anche un tentativo di eliminare il dolore e anestetizzarsi dall'esperienza dell'esterno poi c'è Ivan Gigantelli che dice la scuola di Atene Platone punta il dito verso il cielo totalitarismo e Aristotele punta il dito verso la terra partito della realtà questo è molto popperiano mettiamola così è una semplificazione più simile a uno slogan che non poi io non sono così cattivo con il povero Platone Platone ne ha dette di cose discutibili però la visione che Popper porta di Platone secondo me è un po' un po' un po' pesante un po' calcata comprensibile Popper aveva un intento anche divulgativo e quindi usa Platone come vero villain della filosofia antica però io sarei un po' meno un po' meno cattivo e poi c'è Spettatore Enormico che in realtà credo sia Pierluigi Greco che si è firmato dopo dice possiamo dire che il partito rappresenta il super ego di Freud che vuole prendere il superamento sull'ess e quindi da parte irrazionale dell'uomo allora a me i freudismi stanno un po' qua quindi non sono un appassionato di questo tipo di letture sicuramente il partito è un tentativo di creare un'istanza programmatica che domini su tutto ciò che altrimenti sarebbe incontrollato però poi ecco ha un aspetto politico nel libro vengono affrontate anche le ricadute psicologiche di questo però poi insomma con Freud sempre meglio Freud è come l'apero nello sprizzo non bisogna metterne troppo benissimo per adesso abbiamo terminato le domande quindi fatevi avanti questo è il vostro momento ecco qui ne abbiamo un'altra di Fabio Riccardo mi senti? sì eccolo qua non l'avevo mica vista mi era sparita la voce non ti preoccupare allora Fabio dice io le vorrei domandare se l'affermazione che l'identità accade non limiti la possibilità di autodeterminazione allora questo è un discorso veramente vasto vabbè faccio un invito l'invito è se volete poi questa sera alle 21 sul mio canale Twitch farò una diretta proprio dedicata al libero arbitrio quindi nel caso insomma se non avete impegni in serata potrebbe essere e sarà sicuramente uno degli argomenti sviscerati stasera l'autodeterminazione in realtà non prescinde dal fatto che le cose della vita ci accadono io sono una persona molto convinta io sono sono una persona particolare perché mi sento di essere un liberale convinto del determinismo ma altrettanto convinto che siamo necessitati a considerarci liberi responsabili è una cosa un po' complicata sono molto vicino a Spinoza da questo punto di vista ci tocca considerarci liberi anche quando ci accorgiamo che magari è un costrutto mentale però l'autodeterminazione per me non è mai stato il fatto di decidere faccio l'esempio dell'innamoramento ok se tu pensi ai momenti della vita in cui ti sei innamorato non è che tu ti sei fermato e hai detto mi conviene innamorarmi di quella persona non so vediamo soppeso però è contro non funziona così tu ti innamori e a distanza di tempo a volte anche mesi anni dici ah ho capito adesso cosa era quella sensazione lì ecco la tua autodeterminazione è nella capacità di comprendere quello che ti accaduto questo lo diceva Spinoza per me Spinoza rimane ancora uno dei più grandi liberali della storia anche se alcuni non lo considerano tale perché lui ha capito perfettamente questa cosa la nostra vita è fatta di una montagna cioè io adesso non so c'è stato un momento in cui vi siete emozionati durante la lezione in quel momento sono state le vostre ghiandole surrenali a decidere di farvi emozionare perché hanno pompato degli ormoni nel sangue non è che avete deciso di farlo è successo poi l'uso che io faccio di quell'emozione mi determina in quanto individuo la stessa cosa con l'identità io scopro di avere un ruolo di essere qualcosa e quando scopro la mia libertà la mia autodeterminazione sta nel cosa ne faccio di questa cosa è lì che sono veramente libero allora che analogie ci sono dice Pierluigi Pierluigi con i sofisti eritisti retori non ho idea di cosa tu mi stia chiedendo Pierluigi quindi se riesci a essere un po' più chiaro altrimenti non riesco a risponderti così nel frattempo Stefano Farina la cosiddetta cancel culture rappresenta forse la massima espressione della riscrittura del passato come difendersi la cancel culture è frutto di tanti aspetti nella cancel culture c'è anche una spinta hegeliana molto forte c'è anche un rovesciamento del ruolo della storia quindi è una cosa molto complicata come difendersi? intanto non cadendo in trappo le retoriche purtroppo molto spesso molto spesso ci sono cose in cui cadiamo anche per propaganda non so facciamo l'esempio del del caso di di Biancaneve e del bacio in realtà lì in tanti sono caduti in trappola perché non c'era veramente il tentativo di cancellare Biancaneve per il bacio non consensuale in realtà ci sono state due semi giornaliste di San Francisco che hanno scritto un articolo su un blog e quell'articolo che diceva cose molto stupide è stato rilanciato da una testata di destra americana che ha detto avete visto vogliono cancellare anche quindi primo discorso secondo me per non per difendersi bisogna saper distinguere fra le cose reali e le cose meno reali ci sono cose reali sulla cancel culture e come difendersi non lo so non lo so credo che per difendersi da quella cosa lì bisogna non aver paura di dire quello che si pensa e di dirlo nel modo più chiaro possibile è quello che cerco io di fare cerco di portare avanti un progetto dicendo e divulgando il mio pensiero su certe questioni del mondo senza aspettare di vedere da che parte tira il vento ecco credo sia questa la soluzione c'è un bellissimo passo nel Coriolano di Shakespeare in cui Menenio a un certo punto dice una frase che è una delle mie frasi preferite nella storia della letteratura dice io ho un difetto sono una persona che parla prima di vedere dove tira il vento ecco quello è un ottimo modo per combattere in realtà qualsiasi deriva quindi direi questo poi c'è Gino che dice secondo te è un evento così insensato come la pandemia ha messo in difficoltà il tentativo dell'essere umano di costruire narrazioni in particolare coloro che le costruiscono per lavoro dipende cosa dici cosa intendi con difficoltà perché le ha messe in difficoltà perché sono esplose le narrazioni siamo circondati non abbiamo mai avuto così tante storie intorno a noi poi se in difficoltà intendi che è più difficile costruirle secondo me no secondo me no abbiamo continuato a costruire narrazioni anche dopo Auschwitz continueremo a farlo anche dopo il covid poi c'è l'avvocato Giuseppe Inglese che dice a suo avviso quali ordinamenti tutelano maggiormente la libertà e introducono minore manipolazione e con quali strumenti e quali sono all'opposto ordinamenti legislativi io non ho le competenze per rispondere a questa domanda ho qualche idea ma direi delle banalità quindi credo che ne sappia più lei di me visto che è un avvocato allora quanto al link sul libero arbitrio scusami ti interrompo in scivolata trovate il link al canale Twitch di Riccardo nella chat quindi perfettamente accessibile da lì perfetto grazie mille grazie mille ah ecco perfetto Pierluigi specifica la domanda che hai fatto prima quindi la narrazione intesa come opera di convincimento e presentazione di una realtà non affinità con gli antichi sofisti ah ho capito allora no io ho una grande stima dei sofisti antichi si è fatta una campagna denigratoria nei confronti di questi poveri sofisti e quello sì è colpa di Platone in realtà i sofisti facevano un lavoro straordinario stati i primi ad avere il coraggio di dire se fai il filosofo è giusto che guadagni per il tuo pensiero quindi questo proprio non gettiamo fango sui poveri sofisti in secondo luogo i sofisti sono stati uno dei primi movimenti filosofici uno dei primi correnti filosofiche che ha veramente avuto fiducia nelle persone cercando di fornire strumenti e partendo dal presupposto che se una persona è dotata di un cervello può comprendere fenomeni complessi del mondo e poi come ogni movimento come ogni corrente filosofica è stata molto complessa quindi ci sono stati i sofisti bravi e i sofisti cattivi però in realtà no non direi cioè sicuramente ci sono delle affinità però lo ribadisco il movimento che ho descritto il concetto che ho descritto non è tanto un tentativo di persuasione è proprio un tentativo di costruire simboli di appartenenza perché è una cosa un po' diversa perfetto se non ce ne sono altre le domande sono finite in realtà ne abbiamo una da facebook in cui ti si chiede se il politicamente corretto non è un tentativo di creare una nuova lingua vediamo in realtà noi tentiamo sempre di creare allora partiamo dal presupposto che noi produciamo sempre linguaggio quindi chiunque in chat come diceva Foucault ne ha detto una in realtà Foucault ne ha detto tante di giusta però ne ha detta una che mi sta particolarmente a cuore Foucault diceva tutti noi scriviamo nel tentativo di dire l'ultima parola cioè cosa voleva dire Foucault voleva dire che noi ogni volta in cui diciamo qualsiasi cosa raccontiamo un evento vorremmo raccontarlo nella sua perfezione cioè il linguaggio tende a esprimere la realtà e poi non ci riesce e quindi eccoli la corrispondenza fra mappa e territorio perché logos tradisce logos come diceva ancora ancora Talete sul politicamente corretto sì allora il politicamente corretto è un tentativo di riforma del linguaggio più che di creazione di nuovo linguaggio è riforma del linguaggio si dà un ruolo al linguaggio che per me non è il ruolo del linguaggio il linguaggio non è educativo cioè di nuovo non è che tu modificando il linguaggio modifichi la realtà e se oggi tu costringi centomila persone a usare lo schwa e quindi a dire ciao a tutti come state non è che dalla loro testa togli il fatto che comunque potrebbero ritenere stupida quella roba anzi magari le costringi con il deterrente della punizione e però magari rendi ancora più 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 cattivo il dibattito in quel senso quindi secondo me è ipoticamente corretto ha tanti aspetti legati alle cose che ho detto di Orwell questa sera sicuramente ha l'aspetto di voler proteggere almeno alcune persone dalla realtà dei fatti e quindi dal fatto che per modificare dei comportamenti sociali devi modificare le esperienze che le persone fanno e non il linguaggio che usano puoi modificare anche il linguaggio ma se modifichi il linguaggio senza l'esperienza e senza i contesti anzi di nuovo rischi di fare più danni che altro e poi ha l'intento educativo perché questa narratocrazia si è convinta che il linguaggio abbia un aspetto appunto educativo che se tu modifichi le parole che usi allora modifica anche i tuoi atteggiamenti il tuo comportamento in realtà non è vero al massimo puoi creare dei gruppi che utilizzando un certo gergo possono convincere anche i più restii ad adottare un certo comportamento ma comunque questa cosa non si sta facendo quindi sì il politicamente corretto cerca come tutti quanti i movimenti culturali di creare un nuovo linguaggio un suo linguaggio che entrerà nel lagone anzi è già entrato nel lagone della cultura collettiva e che sta lottando per emergere più o meno a ragione non è una cosa che temo particolarmente credo che l'unico modo per contrastare se uno è in disaccordo con certe cose sia migliorare il proprio linguaggio questo sicuramente e quindi lottare di più conoscendo il proprio linguaggio e magari anche perché si osteggia qualcosa di diverso ottimo grazie ne abbiamo una quindi NR da Federica ah sì eccola qua allora Federica scrive a tuo avviso l'esperienza da cui partire per costruire la propria identità può esserci fornita dai libri e dalla letteratura e che rapporto c'è tra letteratura e narrazione come deriva dallo storytelling a questa una bella domanda la risposta è sì i libri sono la porta d'entrata per un'esperienza e ovviamente come dico spesso i libri non bastano anzi sono soltanto l'occasione di incontrare una diversità e infatti io buona parte delle mie concezioni del mondo della mia vita le ho tratte dall'esperienza diretta mica dai libri libri però sono quei momenti in cui magari ti accorgi che qualcosa di quello che pensi va rivisto è un'ottima occasione di disaccordo il libro infatti con i libri ci si litiga non ci si va d'accordo ricordatevelo io infatti amo gli autori che mi fanno incazzare Orwell in parte è anche uno di quelli quindi sì i libri e la letteratura sono un luogo fenomenale dove trovare occasioni di disaccordo e quindi di crisi però poi valgono poco se restano solo libri infatti io il consiglio che do sempre è che è veramente un consiglio spassionato perché quello che faccio io ne ho tratto un grande vantaggio è ogni volta in cui leggete un libro che vi crea un dubbio vi mette una difficoltà vi fa accorgere di insufficienza parlatene con qualcuno ma subito trovate qualcuno di interessante che sia in linea che sia una persona anche capace di darvi scappellotti intellettuali e parlatene quella è già un'esperienza il libro senza quell'esperienza rischia di essere solo teoria la sola teoria ci fa diventare scemi perfetto allora non abbiamo nient'altro se non un'apostrofata da uno spettatore anonimo che ti definisce Rick Tempesta il tiratore di libri Tempesta il tiratore di libri non ho capito no la citazione sinceramente neanch'io speravo in te a dire la verità no magari mi sfugge però adesso magari ho un mio utente che prende per il culo qualcosa che ho fatto in passato potrebbe essere quindi non ho capito se vuole specificare sono qua se no non ho mica capito allora nell'attesa che questo utente specifichi allora intanto ti vorrei ringraziare tantissimo per la lezione sono sicura che anche gli altri l'hanno l'hanno gradita molto e detto ciò vorrei giustamente solo ricordarvi che le iscrizioni al corso se vi è piaciuto insomma quello che avete sentito ne abbiamo ancora un bel po' appunto dentro questo corso le cui iscrizioni scadono domani quindi volendo avete ancora tutto il tempo per iscrivervi fate un giro tranquillamente su brunoleoni.it sulla sezione eventi e troverete anche la sezione dedicata ai corsi online dove trovate tutte le informazioni e il calendario del corso detto ciò allora forse abbiamo la precisazione infatti diceva mi riferivo a quando ci avevi raccontato che hai tirato un libro dalla finestra ah ho capito sì e beh Fiodor Adorno che ho lanciato in minima moraglia dalla finestra ragazzi bisogna avere un rapporto conflittuale con i libri perché sennò non servono a niente mi ricorderà quella scena io mi sono incazzato ho lanciato il libro dalla finestra i miei coinquilini mi guardano così come dire ma sei scemo c'era fuori una tempesta veramente forte finestra aperta e quindi il libro ha fatto una brutta fine capita capita poi il giorno dopo sentendomi in colpa sono uscito l'ho cercato ma non l'ho trovato e quindi se c'è la tempesta avrei trovato Coriandoli esatto allora adesso penso siamo arrivati al momento che almeno i più giovani stavano aspettando da tutta la lezione quindi annunciamo il vincitore del nostro meme contest per il quale ovviamente vogliamo ringraziare in maniera particolare i ragazzi sia di Milton Spritzman che di Gattini Liberisti e vi invitiamo tra l'altro a seguirli su Instagram e su Facebook perché se volete la risata della giornata è il posto per voi chiaramente seguite anche Riccardo sui suoi canali come avevo detto prima trovate il link al suo canale Twitch per chi volesse seguire la sua diretta di stasera e quindi rullo di tamburi quanto vorrei avere una regia con i suoni a disposizione abbiamo il vincitore complimenti a Lorenzo che quindi si porta a casa una quota di partecipazione al nostro corso di Orwell e ci siamo passati tutti mi verrebbe da dire quindi complimenti a Lorenzo ben fatto allora non mi sembra che abbiamo altre puntualizzazioni quindi nulla non mi resta che ringraziarti di nuovo per aver partecipato e per averci dedicato il tuo tempo questa sera e dare appuntamento a tutti gli altri chi lo vorrà chiaramente per il prossimo incontro del nostro corso che sarà giovedì 20 maggio con la lezione di Nicola Iannello dal titolo alla distopia tra totalitarismo e ipertecnologia invece per coloro che non si vorranno iscrivere al corso ricordiamo che comunque la lezione di chiusura che è appunto come diceva il professor Mingardi l'intervista al professor Canova sarà comunque trasmessa sui canali dell'IPL quindi come volete grazie di nuovo Riccardo buona serata a tutti e speriamo di rivedervi al corso grazie a tutti grazie Alberto grazie all'istituto e niente buona serata buona serata a tutti grazie a tutti